Perché quando si sono messi a Nazareno insieme Renzi e Berlusconi hanno detto che legge se famo in maniera che siamo io e te, tu e Dio, io e il 37, tu e il 35, andiamo al ballottaggio, l'importante è che ci togliamo dalle scatole il Movimento 5 Stelle. Perché anche la revisione del Senato che prevede presidenti delle regioni e sindaci ed eventuali eletti da presidenti delle regioni e sindaci è perché ancora noi sul territorio non ci siamo come dovremmo esserci. Però rispetto allo scorso anno non ci sono 160 liste che si presentano ai comuni, quest'anno sono 600 e signori credete la sensazione più grande e più bella che abbiamo là dentro è che hanno paura, hanno una paura incredibile, non sanno più come fermarci.